Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con la tragedia avvenuta nelle acque di Giulianova perché l'autopsia svolta nella giornata di ieri ha confermato che i due marittimi giuliesi, Elia Artone e Carlo Mazzi, sono morti per asfissia da annegamento. Domani alle 10 si svolgeranno i funerali congiunti nella chiesa di San Pietro, apostolo al Lido di Giulianova. Sarà anche una giornata di lutto cittadino in servizio di Andrea Costantini. Sono morti per annegamento i due marittimi giuliesi, Elia Artone e Carlo Mazzi, che martedì pomeriggio sono stati sorpresi dal maltempo a largo del porto di Giulianova, mentre erano a bordo del motopescareccio Eliana, di proprietà dello stesso Artone. La conferma è arrivata ieri sera, a seguito dell'autopsia svolta all'ospedale di Teramo dall'anatomo patologo Giuseppe Sciarra. Non ne lascia dubbi il fatto che sia stata rinvenuta dell'acqua nello stomaco e nei polmoni di entrambi. Sul corpo di Elia Artone, peraltro, sono state trovate delle tracce di gasolio, il che fa supporre che al momento del naufragio si trovasse nel vano motore. La forte ondata di maltempo, però, potrebbe non spiegare del tutto l'incidente fatale. Data l'enorme esperienza in mare che avevano sia Artone che Mazzi, l'ipotesi più accreditata è che siano subentrati problemi di salpamento delle reti a Strascico, che avevano calato per pescare. Potrebbe essersi impigliata nell'elica. Nell'ultimo contatto avuto con la moglie intorno alle 13.30, lo stesso Mazzi aveva confermato che c'erano problemi nel ritirare le reti. Ulteriori chiarimenti e dettagli saranno dati dal ritrovamento del relitto dell'Eliana, probabilmente poco oltre le 3 miglia al largo del porto di Giulianova. Le ricerche in questi due giorni, però, non hanno prodotto risultati e gli uomini della Guardia Costiera Giuliese continuano a scandaliare i fondali con l'ausilio di strumentazioni elettroniche. Da una parte le indagini e le ricerche, dall'altro il momento dello straziante dolore per le due famiglie. Domani alle ore 10 nella chiesa di San Pietro Apostolo al Lido si svolgeranno i funerali congiunti dei due marittimi. Inizialmente le due famiglie erano orientate a celebrare ognuna il funerale del loro caro, ma a seguito dell'opera di mediazione dei parroci e del sindaco Francesco Mastromauro, le due famiglie sono state convinte della celebrazione del funerale unico. Ad ufficiarlo saranno proprio i tre parroci di Giulianova, Don Egno Lucantoni, Don Egno di Buonaventura e Don Abramo Olivieri. Come annunciato dallo stesso sindaco Mastromauro, quella di domani sarà giornata di lutto cittadino a Giulianova. In particolare resteranno chiusi i negozi in concomitanza con i funerali. Rinviata data da destinarsi anche la inaugurazione della piazza da parte della FIDAS Cuore di Giulianova, che era programmata proprio per domani. L'inchiesta sulla ricostruzione post terremoto, non ho mai riso del terremoto, in quella telefonata parlavo di altro. Lo ha detto con la voce commossa l'imprenditore di Altamura Vito Giuseppe Giustino, interrogato questa mattina a Bari per rogatoria nell'ambito dell'inchiesta della Procura dell'Aquila su presunte mazzette in 12 appalti pubblici gestiti dai beni culturali d'Abruzzo, che lo scorso 19 luglio ha portato all'arresto di 10 persone. Giustino, difeso dagli avvocati Gaetano Castellaneta e Carlo Teot, si è avvalso della facoltà di non rispondere, salvo precisare il contenuto di quella intercettazione telefonica nella quale, secondo l'accusa, rideva al pensiero di nuovi appalti in seguito al terremoto del centro Italia, in particolare Amatrice. L'imprenditore è attualmente agli arresti domiciliari per una presunta turbativa d'asta relativa all'appalto vinto dalla cooperativa L'Internazionale, si è ora dimesso dall'incarico di presidente del CDA, per i lavori del teatro comunale dell'Aquila. I difensori si sono riservati di chiedere la revoca della misura cautelare dopo il deposito di una memoria tecnica. Andiamo a pescare adesso, ennesima manifestazione di protesta. Questa mattina da parte dei residenti delle palazzine Ater di via Lago di Borgiano. Il corteo si è mosso dai palazzi del quartiere Rancitelli ed è arrivato in prefettura in servizio di Alfredo Primante. A un'amica mia, poverina, quattro persone gli hanno dato una casa di 50 metri quadri. Ma dove si mettono? Voi siete in albergo? No, io sto da mio figlio ospite, perché i cani non li accettano. Io ho i cani di taglia grande e non li accettano. Ma hanno detto portali al canile. Al canile ci porto loro, noi cani. Chiedono maggiore attenzione e rispetto i residenti delle palazzine Ater di via Lago di Borgiano sgomberati dalle loro abitazioni a rischio crollo. Un rischio che i cittadini nel quartiere Rancitelli non sentono sulla loro pelle. Anzi, molti di loro sarebbero disposti a rischiare e a convivere con gli scricchioli di quelle strutture pur di restare all'interno delle proprie abitazioni che, raccontano, hanno lasciato in fretta e furia portando via solo pochi effetti personali. Abbiamo subito uno sfratto immediato senza far capire niente a nessuno quando i palazzi non cascano nemmeno fra i 80 anni perché il cemento ci sta, inutile le pittere, le rie, le chiacchiere. Secondo, praticamente si sono parati il culo perché gli hanno detto che le palazze possono grullare. Quindi l'usine ha messo la firma, lo prefetto, mostro mattino e vediamo che cosa dice. Un'altra cosa, noi stiamo in albergo e non è che potremmo lamentarci, però ogni giorno telefonano alle 6, meno 10, alle 6 ci sta la riunione che poi queste riunioni per assegnare perché ce l'hanno, loro hanno le cartelle cliniche anche quelle mie, noi siamo in tre a casa mia e io figurando non mi ricordavo le invalidità che avevo. La signora che ha preso nota ha detto che telefoniamo noi all'Inps quindi ci hanno tutto. E' un'altra questione che dovevo discutere con lui il fatto del mangiare perché a noi arrivano mangiare, la trasera era gruda, 15 giorni fa era scott. Questa mattina i residenti di Via Lago di Borgiano si sono riuniti in una manifestazione organizzata dalla lista Teodoro e dal consigliere comunale Massimiliano Pignoli. Il corteo si è diretto in prefettura per esporre a Francesco Provolo tutte le problematiche che stanno vivendo le oltre 60 famiglie sgomberate, molte delle quali con disabili che risiedevano nelle case popolari. Innanzitutto per l'autonoma sistemazione ci sono delle criticità che noi dovremmo sicuramente spiegare al prefetto per quanto riguarda anche il futuro di queste persone, che cosa le attende, qual è il loro destino. Sono tanti problemi che oggi metteremo sul tavolo del prefetto. E poi c'è la questione di queste case che sono rimaste così, forse c'è anche la scarsa manutenzione tra le cause di questa situazione. Purtroppo si è arrivata a questa cosa perché c'è la scarsa manutenzione. Assolutamente, assolutamente. C'è questa situazione che ovviamente poi è pregiudicata e ha causato quello che ha causato. Vedete, ci sono quasi 100 persone, stiamo aspettando anche gli altri. Fabrizio Pellegrini torna libero grazie a una riduzione della pena pari a un anno. E quanto comunica Vincenzo Di Nanna, segretario di Amnistia, Giustizia e Libertà Abruzzi, difensore del pianista Teatino, malato di fibromialgia, la cui odissea sanitaria e giudiziaria nasce dalla necessità di curare la patologia di cui soffre mediante farmaci a base di cannabis che lo aveva spinto alla coltivazione domestica. La Corte d'Appello dell'Aquila ha riconosciuto il regime del reato continuato tra le due condanne in espiazione, considerandole come espressione di un unico disegno criminoso, quello di procurarsi tramite la coltivazione domestica la sua medicina, spiega Di Nanna. Grazie alla liberazione anticipata di tre mesi per buona condotta concessa dal magistrato di sorveglianza di Bologna, oggi Fabrizio finisce la pena, quindi con un anno di anticipo. Resta irrisolto, continua Di Nanna, il problema dell'accesso alle cure che finora gli è stato negato. Proprio Vincenzo Di Nanna annuncia che la prossima settimana accompagnerà Pellegrini presso la ASL di Chieti a presentare l'ennesima richiesta di erogazione a titolo gratuito del farmaco. Il CDA dell'Università d'Annunzio di Pescara ha interrotto due giorni fa il rapporto con l'oramai ex direttore generale Filippo Del Vecchio. Lunedì il senato accademico provvederà alla nomina di Giovanni Cucullo. A tal proposito, questa mattina abbiamo ascoltato il rettore Sergio Caputi. L'Università d'Annunzio di Chieti avrà a breve un nuovo direttore generale. Sarà Giovanni Cucullo per la cui chiamata a servizio il rettore Sergio Caputi ha convocato il senato accademico per lunedì prossimo 31 luglio. Sarà l'atto che porrà fine, almeno per il momento, alla vicenda dell'oramai ex DG Filippo Del Vecchio che aveva chiesto di poter riprendere servizio dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato il provvedimento di interdizioni dai pubblici uffici per sei mesi, emesso dal GIP del Tribunale di Chieti lo scorso marzo. Provvedimento che aveva colpito anche l'ex rettore Carmine Di Ilio il quale, al contrario di Del Vecchio, si era subito dimesso. La vicenda Del Vecchio si è trascinata fino al CDA di due giorni fa che ha posto fine al rapporto con l'ex direttore generale. Sulla nomina del nuovo dirigente e su un eventuale ricorso al giudice del lavoro di Del Vecchio così è intervenuto stamani il rettore Sergio Caputi. Ma guardi, io... naturalmente non è stato un licenziamento ma semplicemente perché il dottor Del Vecchio non era un nostro dipendente quindi è stata una rescissione per giusta causa di un contratto di lavoro che abbiamo inteso richiedere il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico si sono dichiarati favorevoli a questa ipotesi ed è semplicemente un cambio tra virgolette di politica di Ateneo gestionale. Per quanto riguarda il dottor Cucullo stiamo verificando la sua disponibilità è una persona di esperienza per cui e soprattutto dobbiamo ottemperare una serie di disposizioni legale che ci impongono di sostituire il dottor Del Vecchio al più presto e quindi speriamo che ci sia la disponibilità da parte del dottor Cucullo in questo senso. C'è il rischio di una reintegra dello sesso Del Vecchio? Guardi, io non credo francamente poi a livello personale devo dire che non ho nulla contro il dottor Del Vecchio la situazione si è creata solamente per un problema a livello lavorativo ma francamente io non credo poi il dottor Del Vecchio è una persona di buon senso che opterà per le scelte migliori. Col center tre vertenze aperte e troppi interrogativi per i lavoratori all'Aquila è il settore che dà più lavoro i sindacati sono all'opera per trovare delle soluzioni per salvaguardare l'occupazione. Diana Rosone Una situazione difficile è quella che vivono in Abruzzo i lavoratori dei col center tra le vertenze aperte la più complicata è decisamente quella del consorzio lavorabile dell'Aquila che dà lavoro a più di 500 persone alcuni disabili i sindacati sono tutti al lavoro per cercare di arrivare ad una soluzione che possa garantire il futuro occupazionale dei lavoratori. Il comparto dei col center è il comparto privato dove ci sono più lavoratori riassunti avere una non stabilità occupazionale dentro questo comparto significa una tragedia sociale perché sappiamo che sia all'Aquila che in provincia dell'Aquila la situazione economica è abbastanza delicata perdere un solo posto di lavoro comporterebbe una grave crisi sociale e molte famiglie si reggono appunto anche in maniera monoredditale attraverso questo lavoro soprattutto nei col center. all'Aquila abbiamo circa 1200 persone che lavorano in questo comparto è un comparto privato dove la maggior parte delle persone hanno contratti a tempo indeterminato e una stabilità sia sociale quindi che familiare tre sono le vertenze aperte molto importanti che stiamo svolgendo all'Aquila una è la 3G e anche in provincia una è la 3G di Sulmona dove abbiamo raggiunto un accordo firmato dall'RSU elette e l'altra è su Iker dove System House attraverso il tribunale e vincendo quindi la causa Iker è costretta a dover restituire il primo lotto su poste italiane e che purtroppo prevede degli esuberi che vanno dai 60 da 60 persone a 100 persone e infine un'altra vertenza molto importante sul consorzio lavorabile dove lì l'Inps facendo uscire il bando non ha garantito la territorialità non ha garantito che tipo di contratto verrà applicato per cui ci troviamo in una situazione di trincea e di iniziative iniziative di lotta per risolvere tutte quante queste vertenze appena annunciate il colonnello Sergio Aloia è da oggi il comandante provinciale della Guardia di Finanza dell'Aquila l'ufficiale 44 anni ha comandato dal luglio 2015 il nucleo di polizia tributaria del capoluogo dove ha personalmente diretto importanti operazioni di servizio nei principali settori di intervento proprio delle fiamme gialle prende il posto del colonnello Flavio Urbani che lascia l'Aquila dopo due anni per assumere il prestigioso incarico di comandante provinciale di Reggio Calabria sotto la sua direzione sono state portate a termine numerose attività investigative a contrasto delle infiltrazioni mafiose nella ricostruzione post-sisma nel settore dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di tutela della spesa pubblica cambiamo argomento il Movimento 5 Stelle assieme all'Avvocato Malandra ha presentato alla stampa il contenuto del terzo esposto alla magistratura inquirente sulla situazione della discarica di Piano d'Orta a Bolognano il sito ex Montecatini ricade nel sin di Bussi i grillini chiedono l'immediata messa in sicurezza secondo una stima dei consulenti della procura di Pescara ci sono almeno 100.000 metri cubi di rifiuti inquinanti tra cui vanadio rame piombo zinco beriglio selenio ferro e manganese nel sito industriale ex Montecatini di Piano d'Orta nel comune di Bolognano attivo fino alla metà degli anni 60 rifiuti che si estendono secondo i dati certi a disposizione su un'area di 26.000 metri quadrati compresa all'interno del sito di interesse nazionale di Bussi dal 2007 ad oggi denunciano in un esposto il Movimento 5 Stelle e l'avvocato Isidoro Malandra non è stato fatto nulla o quasi nemmeno per la messa in sicurezza della zona per legge prevista entro 60 giorni se per la discarica tra i monti di Bussi qualcosa si è mosso il sito di Piano d'Orta complessivamente di 11 ettari è rimasto nell'oblio o quasi se non fosse per una bozza di messa in sicurezza bocciata dal Ministero dell'Ambiente e per la richiesta a Piano d'Orta è tutto fermo praticamente quindi con un ritardo di anni è stato diffidato il responsabile dell'inquinamento con un ritardo di anni è stato diffidato il proprietario delle aree per la messa in sicurezza di quelle aree che non sono state assolutamente fatte a distanza di 10 anni a Piano d'Orta non c'è una misura di sicurezza che sia stata attuata il sito era molto più esteso quindi è almeno 4 volte l'area SIN anche quelle aree probabilmente lo dice il Ministero anche quelle aree probabilmente sono interessate dall'inquinamento quello dei pentastellati è il terzo esposto complessivo sulla questione Bussi con il quale si chiede alla magistratura di fare luce e chiarezza sulle inerzie di questi anni per il sito di Bolognano il primo esposto ha riguardato l'inquinamento persistente il secondo l'appalto per la bonifica del commissario Goio i grillini chiedono che a pagare le spese della bonifica e della messa in sicurezza non siano come al solito i soldi pubblici dei cittadini noi crediamo che debba essere sempre affermato il principio fondamentale di chi inquina paga per cui chiediamo e speriamo che il governo regionale e il Ministero si adoperino affinché chi è responsabile dell'inquinamento affronti tutte le spese di bonifica parliamo di trasporti adesso perché la provincia di Teramo ritiene che i lavori di tenteggiatura sotto le gallerie del Gran Sasso sull'autostrada A24 annunciati dalla società strada dei parchi per i prossimi giorni debbano essere rinviati a dopo l'estate una richiesta che come spiega il presidente della provincia Renzo di Sabatino in una nota inviata alla società autostradare alla regione e a tutti i componenti del tavolo tecnico istituito dal vicepresidente regionale Giovanni Lolli è dovuta alla necessità di evitare in via precauzionale che episodi occasionali e fortuiti possano determinare la sospensione della fornitura dell'acqua del Gran Sasso in un periodo caratterizzato peraltro da carenza idrica torniamo all'Aquila adesso indennizzi per gli espropri del progetto case giacciono oltre 10 milioni di euro nelle casse della ragioneria che i proprietari dei terreni espropriati non hanno mai riscosso l'USRA invita a richiedere le somme che spettano ci sono quasi 10 milioni di euro su un conto corrente della ragioneria territoriale dello Stato che aspettano di essere prelevati dai cittadini dell'Aquila e il cratere si tratta in realtà dei soldi delle indennità di esproprio per i terreni occupati per realizzare il progetto case e altri manufatti temporanei costruiti ovviamente dopo il terremoto del 2009 9,8 milioni di euro nel dettaglio 7,4 riferiti alla città dell'Aquila 2,3 agli altri comuni del cratere per un totale di 1.664 particelle soldi parcheggiati tant'è che l'USRA ha dovuto divulgare un avviso per ricordare ai proprietari che ne hanno diritto di andare a prelevare le somme che a loro spettano secondo i report disponibili sui siti di USRA e USRC all'Aquila le istrutture concluse dal 2013 a oggi sono 3.374 nel cratere 1.100 complessivamente le risorse impegnate per indennizzare i proprietari ammontano a 76 milioni di euro la maggior parte dei quali riguardano il comune dell'Aquila la protezione civile aveva fatto una stima di oltre 200 milioni di euro più molte è rimodulata le delibere cipi hanno stanziato per questo capitolo del post-sisma 170 milioni di euro una cifra che però è comprensiva anche delle spese di funzionamento dell'ufficio centrale costituitosi presso l'USRA e per eventuali ricorsi può capitare in questo caso che i pagamenti siano predisposti ma che poi diretti interessati non riscuotano il pagamento perché magari non sono raggiungibili in questo caso si fa alla ragioneria territoriale del MEF un deposito amministrativo chi ne ha diritto però e qui entra in ballo l'USRA con il suo avviso può fare istanza di nulla osta e svincolare dunque i soldi che gli spettano parliamo di eventi adesso perché questa sera al porto turistico marina di Pescara si esibirà Durga McBroom storica corista dei Pink Floyd in occasione del concerto che sarà tenuto dai Paintbox la tribute band del noto gruppo musicale britannico il servizio di Vestina News Durga McBroom è una storica vocalist dei Pink Floyd è una delle più importanti band dell'internazionale ha fatto la storia della musica torna in Abruzzo per un'importante tappa al porto turistico con i Paintbox lei è contenta chiaramente di essere tornata qui e questa volta sarà diverso chiaramente lei ama molto il cibo molto e dice che le persone qui sono fantastiche se è come il resto dell'Italia sarà una cosa unica qual è la difficoltà di andare in giro per il mondo e cantare con queste cover possiamo dire dei Pink Floyd e sapere che si è una persona che è stata importante molto importante per la band originale beh è chiaro che insomma lei quando si esibisce con le tribute fa capire che comunque avendo fatto parte del mito lei insegna agli altri come ottimizzare al meglio le parti le versioni che è una cosa chiaramente importante è diverso da chi le riproduce e chi invece ha fatto parte della storia insomma beh io personalmente ho ascoltato la sua voce quando avevo la prima volta avevo 18 anni adesso ne ho 40 e sono cresciuto con la sua voce con la sua professionalità con il suo modo di stare sul palco quindi per me è un mito Paintbox con Durga McBroom questa sera 28 luglio porto turistico ore 21 e 30 e invece da oggi fino al prossimo 3 agosto appuntamento con la sagra del timballo Terramano in località Floriano di Campli ci sarà spazio anche per altri piatti tipici della provincia oltre che per eventi culturali e musicali la festa arriva quest'anno alla sesta edizione fino al 3 agosto a Floriano di Campli torna la sagra del timballo Terramano sì ormai è una tradizione del territorio camplese ma non solo perché coinvolge tanti avventori da tutta la provincia di Terramo quindi è un evento bellissimo in cui appunto si può degustare questo timballo in cui viene un po' rivalutata la vecchia tradizione della ricetta quindi un evento che poi è supportato da tanti eventi culturali musicali e anche di altra natura quindi noi come amministrazione l'abbiamo sopportata quindi gli abbiamo dato il patrocinio e quindi speriamo che quest'anno questa sagra che acquisisce un valore particolare dopo tutto quello che è successo ci sia molta gente oltre al timballo ci sono altre cucine culinarie che si vengono fatte ogni anno tra cui gli spiedini salsicce un tipo di bistecca di razza gianina e altre pietanze vi aspettiamo a Floriano tutte le sere dal 29 luglio al 3 agosto il complesso è munito di tendo e struttura se è un caso di pioggia e ogni sera ci sarà uno spettacolo diverso di musica avremo adesso la pagina di sport perché a due settimane dall'avvio della campagna abbonamenti il Pescara tocca già le 1500 tessere da lunedì via la vendita libera intanto per gli arrivi di Massimiliano Gatto e Antonio Balzano si attendono le uscite il Pescara tocca 1500 abbonamenti a due settimane dall'avvio della campagna per la prossima stagione in questa prima parte infatti e fino a lunedì vige la prelazione per i vecchi abbonati mentre dall'inizio della prossima settimana via la vendita libera ma 1500 tessere già staccate sono inevitabilmente un ottimo segnale specie dopo la scosta stagione sintomo di una ritrovata fiducia da parte della piazza Bianca Azzurra in vista di un torneo che vedrà il Delfino come una delle big della cadetteria la tifoseria evidentemente nutre fiducia nei confronti di un progetto tecnico quello di Zeman che evoca ricordi indimenticabili sul fronte mercato in questo momento la priorità è quella di sfoltire la rosa soprattutto dopo le dichiarazioni di Zeman di martedì vorrei andare in 28 e gli altri diciamo per regolamento si possono allenare a parte o appoggio 28 giocatori dunque e visto che la seconda parte del ritiro di Palena è alle porte la società Bianca Azzurra è superattiva per cercare di piazzare i giocatori in esubero anche perché altrimenti per le entrate le cose si complicano per esempio quella di Massimiliano Gatto esterno offensivo classe 1995 di proprietà del Chievo c'è stato un incontro risolutore per l'arrivo in prestito in riva all'Adriatico ma l'affare sarà definito nei prossimi giorni quando sarà ufficiale anche qualche cessione soprattutto nel reparto offensivo con la Ternana che ha mostrato interesse per Nicastro ed è per questo che il direttore sportivo degli Umbri Evangelisti era in tribuna al Dei Marsi martedì per quanto riguarda il pacchetto arretrato c'è abbondanza e come esattamente come aveva dichiarato il tecnico bianco-azzurro il pacchetto finisce il 31 agosto vuol dire che abbiamo più di un mese di tempo per le uscite per le entrate è normale che se alla società serve di fare qualche cessione che è utile alla società la fa trotta ce la dedicare e ce la accorta poi fuori fuori erano campagnaro nuovo e fornasea quindi come numero è sufficiente penso che che possano giocare Stendardo ormai può considerarsi quasi un ex giocatore del Pescara il problema sta in quel quasi bisogna trovare l'accordo sulla rescissione del contratto per Rossi non ci sono offerte almeno per ora Vitturini ha l'accordo col Carpi mentre Polidori si accaserà alla Provercelli Forte e Milicevic potrebbero trovare qualche altra squadra di Lega Pro movimenti in uscita che se concretizzati porteranno anche all'eventuale ritorno sempre più probabile di Antonio Balzano in Maglia Pescara e in Serie D in casa l'Aquila fumata bianca tra l'Aquila Calcio e Umberto Fioravanti e i suoi soci ovviamente Massimo Gizzi ed Ernesto Penzi che hanno detto dunque si gestiranno per un mese la società Rosso Blu con fondi proprio in modo da consentire la partenza della stagione in attesa di completare le verifiche contabili che dovrebbero portare al passaggio di quota in sostanza è arrivato l'ok alla mediazione offerta ieri dal presidente Corrado Chiodi dopo il vertice a Palazzo Fibioni alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi stamattina Fioravanti e soci hanno inviato un documento per la firma se sarà accettato la stagione potrà dunque partire e sempre in Serie D ma in casa Avezzano Erminio Rullo è l'ennesimo rinforzo di una campagna estiva che consegna al tecnico biancoverde Umberto Marino una rosa di assoluto rilievo vediamo Erminio Rullo l'anno scorso ad Agnone insomma playoff nel girone F quest'anno ad Avezzano per portare qualcosa di importante a questa piazza sicuramente il presidente ha formato una squadra di giocatori validi adesso cominceremo a lavorare soprattutto col gruppo perché col gruppo di uomini si può fare qualcosa di importante tanti singoli come diceva il mister non vincono i campionati con i nomi abbiamo esempio dell'Inter di Moratti che per dieci anni ha speso tanti soldi e non ha mai vinto quindi noi dobbiamo fare dobbiamo mettere l'umiltà davanti a tutto soprattutto nei grandi ad esempio ai giovani che dobbiamo tiracceli dietro loro magari correranno un po' di più per noi però è quello il segreto per portare la squadra ai vertici del campionato ecco tu che hai giocato con il Lecce con il Napoli tanta esperienza che cosa puoi dare a questi ragazzi sicuramente la voglia di lavorare in settimana si lavora per portare la squadra al massimo la domenica quindi prepararci da martedì essere davanti al gruppo dare il massimo quindi tutti quanti insieme con i tifosi stessi visto che un po' di entusiasmo si sta ricreando sentivo l'anno scorso c'era un po' di freddezza con i tifosi adesso è importante ricompattare tutto l'ambiente la squadra e solo così possiamo fare qualcosa di importante e a Pineto invece il difensore centrale Marco Pomante prossimo per la stagione che verrà in maglia bianca azzurra una certezza per il reparto arretrato che consegna al tecnico Daniele Amaolo un tasso elevato di esperienza Marco Pomante comincia questa nuova avventura da capitano di questo nuovo Pineto le prime sensazioni tra pochissimo inizierà il primo allenamento le sensazioni sono positive perché c'è sempre voglia di ricominciare di ripartire oramai per me questo è il diciottesimo ritiro che faccio quindi diciamo che senza calcio non ci so stare poi a livello di giocatori la maggior parte già li conoscevo le sensazioni sono buone dai è stata condotta una buona campagna acquisti sono arrivati giocatori nuovi vi siete rinforzati soprattutto in un reparto che forse è quello di centrocampo in cui l'anno scorso c'erano state un po' più problematiche all'inizio quest'anno che campionato ti aspetta? è normale che la squadra è stata rinforzata la società ha fatto un'ottima campagna acquisti che mi aspetto io mi aspetto sicuramente di fare meglio dell'anno scorso perché è normale l'anno scorso siamo salvati però diciamo che potiamo fare molto di più c'è stato anche un ringiovanimento della Rosa da parte della società sarai chiamato da capitano anche a fare un po' tra virgolette da chioccia a questi nuovi ragazzi che vengono al settore giovanile? sì quello che posso mettere a servizio alla squadra è la mia esperienza come ho detto prima questo è il mio diciottesimo anno che faccio questo lavoro questo gioco è normale quello che posso fare è questo mettere al servizio dei ragazzi dei giovani la mia esperienza è la mia voglia perché c'ho la voglia di un bambino diciamo e questo era anche il nostro ultimo servizio il telegiornale torna questa sera alle 23 con la terza edizione tutto buona serata la terza edizione la terza edizione